Salve, sono Maria, una degli psicologi delle SEP e in pochi minuti cercherò di dare delle indicazioni per quanto riguarda la prevenzione di quello che certo non può essere la fuga da un terremoto, perché non si può prevenire psicologicamente, ci si può preparare, ma non si può prevenire, cioè non posso prevenire la reazione, non posso sapere che reazione avrò. Ma possiamo lavorare su, una volta purtroppo subito l'evento, cercare di rimettere a posto i frammenti, i pezzi dell'evento traumatico che abbiamo vissuto e questo per prevenire quelli che potrebbero essere poi delle cronicizzazioni o comunque degli eventi che poi si potrebbero appunto strutturare in disturbi più grandi, più fissi, infatti più strutturati. Cosa succede quando subiamo un evento traumatico, in questo caso un terremoto? Durante la scossa o comunque durante proprio l'evento devastante in sé possiamo avere varie reazioni, cioè la fuga, quindi scappiamo senza renderci conto di quello che sta succedendo o invece essendo consapevoli di quello che sta succedendo prendiamo mano alla situazione e scappiamo oppure rimaniamo bloccati, rimaniamo bloccati addirittura in alcuni casi c'è chi può perdere anche coscienza e quindi svenire, perdere conoscenze e quindi svenire e queste sono le reazioni base che ognuno di noi ha di fronte a una situazione emotivamente forte e successivamente naturalmente cosa può accadere? La situazione evolve in varie fasi, la prima fase è quella, la fase eroica, cioè tutti ci è stata la scossa tutti noi siamo scappati, ci siamo messi in salvo e quindi ci guardiamo intorno e ognuno aiuta gli altri, ognuno è pronto a aiutare gli altri ognuno è pronto ad andare a scavare sotto le macerie, aiutare il vicino di casa e questo è un momento importante a livello psicologico ed emotivo ma anche a volte molto rischioso perché presi dalla fuga di aiutare magari ci si mette anche in situazioni che non sono sicure e questo dura qualche ora, qualche giorno anche a seconda dell'evento e della portata dell'evento dopodiché abbiamo la fase della luna di miele, che significa? Significa che arrivano gli aiuti, magari tutti arrivano i giornalisti tutti parlano di noi e quindi naturalmente ci sentiamo non abbandonati io mi ricordo quando per esempio all'Aquila, al terremoto dell'Aquila, ero al campo di Colle Maggio e tutti i giorni c'erano, addirittura c'erano rappresentanti delle Croce Rosse di tutto il mondo ma anche giornalisti, attori, tutti, tutti che venivano, che erano presenti, che chiedevano, che giravano tra le macerie quindi logicamente chi ha subito un evento del genere si sente visto, si sente riconosciuto nella propria difficoltà e quindi si sente motivato, si sente forte per andare avanti dopo però arriva la fase della disillusione perché? Perché magari le prime leggi emanate non sono quelle che ci aspettavamo perché purtroppo poi magari i giornalisti iniziano a essere sempre meno perché ci si imbatte con quelle che sono le difficoltà reali della quotidianità le scuole magari si chiudono oppure il lavoro non riparte i lavori di ricostruzione necessitano dei tempi, c'è la burocrazia e quindi naturalmente questa fase di euforia inizia a diminuire inizia a diminuire e ci si spaventa, ci si preoccupa, ci si sente soli, abbandonati e possono anche esserci delle reazioni di aggressività, di polemica non solo aggressività significa io mi metto e tiro cazzotti ma di appunto polemica, di scontentezza ci possono essere per esempio manifestazioni, ci possono essere continue richieste cioè la situazione inizia a essere più pesante e quindi pensiamo anche ai bambini che magari hanno vissuto queste situazioni, questi traumi e poi iniziano anche a respirare queste condizioni mi ricordo sempre all'Aquila per esempio ma anche quando ci fu il terremoto dell'Emilia questi bambini che vagavano tra i campi che magari non avevano più un'attività perché le scuole magari sono state sospese o chiuse i genitori invece sono impegnati nelle varie burocrazie alcuni lavorano perché magari è caduta la casa ma il lavoro è ancora continuo e quindi non c'è più la routine che c'era prima non ci sono più le amicizie che c'erano prima non c'è più la comunità magari sempre vicina come era prima e quindi anche i bambini oppure altre fasce più deboli magari gli anziani o i malati iniziano a accusare ancora di più queste situazioni e anche le persone stanno bene perché naturalmente poi si sentono o abbandonate ma comunque si sentono sopraffatte da questa situazione mi ricordo all'Aquila per esempio tutti si chiedevano ma l'Aquila tornerà più come era prima quindi questo è il pensiero che continua se tutto sarà più come prima quindi questa disillusione questo inizio a entrare in contatto con le mie emozioni e mi inizio a rendere conto di questa perdita che c'è stata dopodiché abbiamo invece il ristabilimento perché si inizia a capire che anche se ci saranno delle difficoltà però ci sono le soluzioni si può andare avanti iniziano magari ad arrivare le prime condizioni positive iniziano ad esserci dei cambiamenti e quindi piano piano si inizia a rivedere che la situazione può andare avanti può continuare ci si può fare che significa questo? Significa una cosa fondamentale che deve valere per tutti in tutte le condizioni che le emozioni sono normali è l'evento che è straordinario e quindi le emozioni che proviamo noi o i nostri cari sono normali mi ricordo appunto sia nell'Aquila ma nei vari terremoti il fatto che magari i genitori si preoccupassero per i figli perché avevano delle reazioni un po' diverse un po' particolari o per il proprio caro o per se stessi questo perché? perché è normale che noi reagiamo in maniera diversa è stato un evento devastante e le nostre difese psicologiche non erano pronte o comunque hanno reagito nella migliore dei modi e quindi non ci spaventiamo andiamo avanti parliamone magari con degli esperti ma non ci spaventiamo è normale un'altra cosa fondamentale è tenere presente la scala delle vittime che fa la psicologia dell'emergenza quando succede qualcosa noi pensiamo solo alla vittima primaria cioè la vittima che subisce l'evento ma poi la scala delle vittime sono sei tifi cioè esiste il familiare della vittima esiste al terzo posto volontari o le forze dell'ordine o comunque chi è attivo in prima linea esistono come vittime anche vittime di quarto tipo cioè chi fa parte della comunità colpita che non è stata magari colpita in prima persona ma che comunque fa parte di questo tessuto e poi esistono le vittime che possono essere i testimoni gli astanti o le vittime di sesto tipo cioè persone che in qualche modo dovevano essere lì ma non ci sono state e che quindi hanno in qualche modo respirato questo evento anche se non l'hanno vissuto in prima persona quindi le reazioni possono essere più diverse più disparate perché io posso avere una situazione di iperallerta perché ho paura che si ripeta questo evento quindi non riesco a dormire bene magari sono anche più irritabile ho paura appunto che si ripresente ho un sonno disturbato ho difficoltà magari a prendermi cura emotivamente sia di me stessa che dei miei cari dei miei bambini mi ricordo per esempio all'Aquila c'erano questi bambini che a volte avevano bisogno di parlare della paura che avevano vissuto la disegnavano ma i genitori avevano difficoltà a stargli vicino emotivamente perché loro per primi erano stati colpiti avevano vissuto in maniera così forte questo evento quindi questo e tanto altro è quello che fa il CEP cioè che cerca di rimettere appunto a posto tutti questi pezzetti emotivi di dare un significato e di dare una speranza e se si procede lungo questa linea si può prevenire quelli che possono essere appunto disturbi più forti più duraturi e quindi questo è diciamo la nostra funzione principale soprattutto quando interveniamo dopo un evento quindi la cosa più importante dattene il presente che noi sottolineiamo sempre le emozioni sono normali è l'evento che è anomalo perché è più forte e ci ha travolto ma se noi siamo presenti a noi stessi la situazione in qualche modo si affronta le soluzioni si trovano buon lavoro